Musica E' un mondo che può offrire buone opportunità per i giovani che vogliono lavorare in diretto contatto con la natura. L'agricoltura del nuovo millennio è ricca di innovazione e alta tecnologia per attrezzature e pratiche agronomiche. Un settore affascinante, molto impegnativo, ma che può dare vere soddisfazioni, come racconta l'imprenditore, socio della cooperativa Orgel. L'azienda sono circa 100 ettari, di cui 75 ettari sono gestiti, coltivati con culture estensive, diciamo fagiolino, noi lavoriamo per l'Orgel fagiolino, spinaccio e zucche. Poi produciamo pomodori, produciamo patate, cipolle e in rotazione per far riposare i terreni, grano, bietole o mais. Siamo legati da decenni all'Orgel, azienda ditta molto seria, ci troviamo benissimo. Siamo seguiti molto bene da dei tecnici molto preparati. Questi sono i primi frutti del raccolto di quest'anno, il fagiolino è di primo raccolto. Il prodotto deve essere buono, sano e Orgel diciamo che ci fornisce tutte le competenze tecnici per portare avanti questo tipo di progetto. La cooperativa, che sia Orgel o che sia di altro tipo, sono importanti proprio per il produttore, per la commercializzazione, per far conoscere il nostro prodotto. Stiamo livellando il terreno per poter dare pendenza e scolo delle acque, per togliere tutti quelli che sono i fossili e le scoline, per recuperare un po' di superficie e risseminiamo il fagiolino di secondo raccolto per fare un blocco unico, questo è un blocco unico di 9-10 ettari. Questi sono dei trattori con laser, devono trovare la pendenza giusta e adatta. Qui abbiamo un'irrigazione di precisione con tutti gli spruzzini, tutto quanto computerizzato viene programmato il tempo e la quantità d'acqua necessaria per il prodotto. Noi qui utilizziamo l'acqua in pressione del CER, del canale mediano romagnolo, per fortuna che esista il CER perché senza l'irrigazione è impossibile fare queste determinate produzioni. L'agricoltura soprattutto negli ultimi decenni ma principal modo negli ultimi anni cambia di anno in anno. Bisogna seguire quelle che sono le innovazioni, seguire quelle che sono le tipologie di cultura, di prodotto che il mercato ritiene di supportare e quindi noi dobbiamo sempre stare dietro alle innovazioni che ci devono essere. Altrimenti anche l'agricoltura se si ferma come in tutti gli altri settori si è perduta. La campagna è tutto, la campagna è natura, la campagna è il nostro mondo, la campagna è quello che dà la vita per cui potrei sicuramente dire ai giovani venite in campagna a lavorare. Purtroppo facciamo fatica a trovare i giovani perché il lavoro non è sicuramente facile, il lavoro è abbastanza duro però è un lavoro anche sicuramente rimunerativo. CRPV e Astra Innovazione organizzano la visita guidata alla prova di confronto su fagiolino da mercato fresco e industria. Innovazione e sviluppo fondamentali nel campo della gamma varietale che permette all'agricoltura moderna di allinearsi con le esigenze del settore attraverso continue selezioni. Ci troviamo presso nell'unità operativa di Astra e siamo in un campo di confronto varietare fagiolino sia da mercato fresco che da industria e all'interno di questi campi vengono messe a confronto diverse varietà o selezioni per le quali vengono valutati diversi parametri sia produttivi che qualitativi. Le verifiche vengono fatte sostanzialmente sulla morfologia della pianta, quindi l'altezza delle piante, le fioriture, l'epico di fioriture, l'intensità delle fioriture, la cascola eventualmente dei fiori se c'è e se è più presente in alcune varietà o selezioni rispetto ad altre, l'allettamento, il portamento delle piante. Poi quando raggiunge la maturità, diciamo commerciale, su invece le bacche che vengono raccolte si fanno tutti i rilievi produttivi e qualitativi, quindi numero di fagiolini raccolti, peso, quindi di conseguenza il peso medio, la lunghezza dei baccelli, il calibro che è molto importante soprattutto nel fagiolino da industria e poi in alcune prove analisi qualitative, quindi panel test e anche analisi sul colore, l'intensità del colore, eccetera. I panel test in particolare e tutte le analisi qualitative vengono effettuate a Tebano dove c'è un centro specializzato con del personale qualificato appunto nelle analisi dei prodotti ortofrutticoli e in particolar modo nei panel test di diverse specie orticole e frutticole. La costante innovazione tecnologica applicata alle linee di lavorazione continua a rendere tangibile il percorso di sostenibilità intrapreso dall'azienda. L'investimento che vede operativo un pelatore a pressione di vapore utilizzabile per radici e tuberi assicura elevata qualità di pelatura e limita l'utilizzo di acque di lavaggio, un investimento mirato e dedicato alla salvaguardia dell'ambiente. Le carote arrivano in stabilimento già lavate e scollettate e sono calibrate secondo diversi calibri e a seconda del calibro hanno una destinazione diversa. Il primo processo è il lavaggio e poi la fase di pelatura, una pelatura a vapore. Dopo la pelatura abbiamo una spazzolatura e una cerita manuale. Successivamente abbiamo il taglio che secondo il calibro può essere fatto a disco oppure a cubetti. Abbiamo diversi formati, vanno nei misti, nei minestroni, nelle zuppe. Sul processo di pelatura abbiamo fatto uno studio molto importante e il nostro obiettivo era quello di migliorare le rese produttive, di ridurre l'impatto ambientale di questa lavorazione e quindi abbiamo puntato su una tecnologia che potesse permetterci di ottenere tutti questi risultati. È una pelatura a vapore, quindi un processo naturale senza l'uso di nessun tipo di additivo. Il prodotto viene messo all'interno di una camera in pressione, viene inserito vapore a 120 gradi alla pressione di 18 atmosfere per pochi secondi. e quindi nel momento in cui poi togliamo la pressione la buccia si distacca perché l'acqua sotto forma di vapore si dilatta e quindi provoca il distacco della buccia. In una seconda fase invece abbiamo il passaggio in una spazzolatrice che toglie tutte le parti che si sono diciamo morbidite e che vengono poi allontanate mediante un lavaggio anche con acqua. Anche dal punto di vista delle acque reflue che vanno poi al depuratore il carico di sostanza organica che deve essere depurato è molto inferiore, quindi con questo un notevole giovamento sia per quel che riguarda la gestione di tutto il sistema che per l'ambiente. La maculatura bruna si è manifestata sul Piero in Italia dagli anni 70 e ha sempre determinato un'elevata dannosità. Difficili sono sempre stati gli interventi per debellare il fungo ma la professionalità e preparazione degli agronomi permette oggi di mettere in campo nuove mirate ricerche che sembrano dare ottimi risultati. La problematica maculatura è una problematica che negli ultimi anni si è affacciata forte nel panorama della coltivazione del Piero in particolare su alcune varietà sensibili come Abate in primis ma anche Conference subito a seguire. È molto evidente negli ultimi due barra tre anni nel biologico ce ne siamo accorti in realtà qualche anno prima che la cosa diventava più impegnativa. La cosa interessante sulla coltivazione del Piero sul controllo della maculatura è che dall'anno scorso abbiamo capito che più che intervenire direttamente sulla pianta può essere ancora più interessante intervenire direttamente sul prato da cui il fungo della maculatura si muove per poi raggiungere la pianta. Questo fa sì che a partire da quest'anno ci siano una serie di sperimentazioni che raccoglieranno un sacco di dati e ci auguriamo di avere in tempi brevi delle risposte interessanti. La cosa interessante è comunque già in partenza, già oggi è che effettivamente abbiamo avuto nei primi approcci dei dati estremamente incoraggianti con dei prodotti veramente molto banali come solfato di ferro, della calce idrata, piro di serbo eccetera eccetera. Quindi effettivamente basta usare dei concimi o poco più per ottenere dei risultati straordinari però su questo abbiamo ancora molto da lavorare perché avendo semplicemente capito che la cosa può funzionare oggi dobbiamo invece provare a vedere tutto quello che riguarda l'approccio in termini di dosaggi, momenti di applicazione, timing eccetera eccetera. Devo dire che l'argomento maculatura è un argomento che ha suscitato tanto interesse e sono stati utilizzati molti fondi attraverso il PSR con il contributo della Giorgio Emilia Romagna quindi sono stati veramente messi in campo un bel po' di sforzi e quindi da questo punto di vista non c'è nulla da dire adesso si tratta soltanto di avere il tempo per riuscire a ottenere dei risultati. I vivaisti lanciano l'allarme in Italia la metà degli astoni di drupace è abusiva lo ha reso noto un gruppo di vivaisti interpellato da Fresh Plaza si stima che in Italia le varietà di pomacee sottoposte a brevetto siano circa il 70% del totale percentuale che sale al 90% nel caso delle drupacee in questi due settori l'abusivismo cioè la coltivazione illegale di varietà coperte da brevetto causa danni per circa 20 milioni di euro risorse che sono così tolte alla ricerca e alla competitività di tutto il sistema ortofrutticolo nazionale si stima che circa l'85% dei fenomeni di abusivismo vada ricondotto a operatori che pur dichiarandosi vivaisti sono in realtà privi dei requisiti professionali per definirsi tali il restante 15% si può ricondurre a casi di moltiplicazione aziendale partendo da materiale vegetale non derivante da canali ufficiali magari ottenuto dal vicino